Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video questo è il video in cui vi faccio vedere appunto questo look ho realizzato questo trucco veramente molto molto in fretta perché Lara non c'è in questo momento e con la nonna e quindi appunto sono riuscita a realizzare questo make up è un make up che uso ogni volta che voglio stare molto ordinata magari ho qualcosa di importante comunque da fare insomma, non proprio per andare a fare la spesa però, oddio, se volete, pure pure sì, forse credo che ci andrò anche a fare la spesa quindi spero che il look vi piaccia comunque quindi mi mando un grosso grosso bacio spero che questo make up vi sia piaciuto e niente, fatemelo sapere qua sotto con un commentino fatemelo sapere se proprio troppo esagerate eccetera e soprattutto sapete che io non sono una make up artist sono una ragazza normale con una normale passione per il make up che non vuole insegnare assolutamente niente ma fa vedere solo come si diverte lei col make up e magari darvi qualche consiglio così ma niente per insegnare quindi datemi voi i vostri consigli qua sotto ditemi se vi piace, se non vi piace se ho fatto qualcosa di male scusate i rumori di sottofondo vi mando un grosso grosso bacio e iniziamo ricordati di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti